Se lei è lì, la troverò. In una New York desolata, Joe è un veterano di guerra che vive con la madre anziana e fa il mercenario per chi vuole liberarsi di nemici pericolosi. Il suo ultimo incarico è quello di sottrarre Nina, la figlia di un politico locale, a un giro di prostituzione minorile. Se la storia non è particolarmente originale, è il modo in cui Elaine Ramsey la racconta a fare la differenza. Con una attenzione spasmodica al dettaglio, la regista si butta nella narrazione visiva, entrando dentro la materia delle cose e permeando la psicologia disturbata dei suoi personaggi. Le sue immagini sono di una potenza inedita e devastante. La violenza, tanto fisica quanto mentale, è resa digeribile dalla profonda empatia della regista per i personaggi. Altrettanto potente l'interpretazione di Phoenix, quasi muta, ma perfettamente eloquente. La violenza, tanto fisica quanto mentale, è resa digeribile dalla regista per i personaggi. La violenza, tanto fisica quanto mentale,